che ci veniva passato dalla post un'ultima cosa sulle effects è quando ad esempio facciamo un test molto veloce ad esempio proprio sull'out nel caso in cui fallisca un esempio un po' sciocco voglio far vedere qui andiamo a iniettare il toaster service uguale a inject toast service quindi abbiamo il servizio di toast per far vedere il messaggio cosa facciamo? facciamo un effect sul signing failure molto molto sciocco qua create effect e qui cosa facciamo? this.actions punto pipe andiamo a prendere off type dell'out actions punto designing failure quindi è come se stessimo creando una catena cioè qui va male scatena sign in failure far reduce the sign in failure poi c'è questo altro effects ok? quindi va a prendersi creiamo un altro effects su sign in failure in questo caso che vogliamo fare? non vogliamo fare altro che dopo aver preso il type qui ci aggiungiamo un bel tap per far vedere un messaggio this.trust service error you cannot log in ovviamente mi dà un errore perché mi dice guarda che mi serve un return di un action qui possiamo dire dispatch pulse che significa guarda che questa effects non farà un altro dispatch mentre prima abbiamo sempre fatto un dispatch di un'altra action a seguito di una action in questo caso diciamo prenditi la action ma non fare non ci sarà nessun altro dispatch andiamo a vedere a questo punto con questo tap che cosa succede quindi sign in e mettiamo f chiocciola f.it qui sbagliamo la password sign in ah c'è ancora l'accesso in corso? che è successo? network la login è andata male ecco qui il problema la login è andata male ma che succede? che qui quando facciamo il switch map se va male la login non lanciamo poi nessun errore quindi come diceva giustamente prima Fabio invece di farlo qui incatenato lo possiamo fare qua e qui nella pipe del del servizio interno funziona decisamente meglio guardiamo se adesso riprovo f chiocciola f.it sbagliamo la password in realtà ancora non l'ha fatto perché 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 ok e probabilmente lui cerca di andare nella user's login no all'auto interceptor sign in non capisco vediamo un attimo del del perché è andato in errore in realtà l'auto interceptor non dovrebbe andare ah avevamo fatto il true error ecco perché perché qui faceva l'accesso non consentito sull'auto interceptor andiamo un attimo a togliere via questa cosa riproviamo e niente da login è andato in 422 ah perché è un risultato in correct credentials ok però quello che non mi torna è andato qui è andato qui on login register user e fa solo il dispatch facciamo così andiamo in debug ci mettiamo un bel breakpoint e lo facciamo sull'auto effect quindi lo facciamo qui ah aspetta qui dobbiamo fare il catcherror error e qui ci ritorniamo un off in questo caso dobbiamo fare l'off perché dobbiamo ritornare un observable election che vogliamo ritornare di off out actions punto sign in failure vediamo se saremo fortunati ed eccolo qua you cannot login forse questo passaggio non vi è chiaro praticamente qui cosa succede che la login sta andando in errore se non gli metto il catcherror praticamente non entra mai nel map e quindi è un'eccezione che non viene catturata veniva catturata prima dal interceptor quindi qui possiamo rimetterla come la prima ok e anche questo possiamo rimetterlo come la prima non entrando non facendo questo catch non veniva catturato quindi non veniva rilanciato il sign in failure però avete visto che c'è ando l'errore e rilanciando il sign in failure entra in funzione il 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 reducer del feed qui quando noi non questo scusate questo quando va male entra qui dentro e fa vedere you cannot login ovviamente qui potremmo passarci anche un parametro vi posso garantire che una volta che capite come funziona diventa molto più semplice certo bisogna essere ordinati quando si creano gli effects quando si creano gli observable e via dicendo però i vantaggi sono esempio quello stato potete averlo all'interno della vostra applicazione trasversalmente i vostri componenti vi semplifica alcune operazioni soprattutto quando andate a usare esempio in selet in diverse componenti quindi il selet dello stato su componenti trasversali io spero vi sia piaciuto ora vi lascio veramente buonanotte vi riaggiorniamo ciao a tutti